Sera a tutti e benvenuti alla terza puntata di IG Club, questo spazio dedicato agli approfondimenti sul calcio dilettantistico marchigiano, questa sera qui con me come al solito Cristiano Lambertucci e poi all'indomani del derby maceratese-civitanovese vinto appunto dalla squadra Rosso Blu abbiamo con noi un civitanovese puro sangue, telecronista della civitanovese, allenatore in passato e un vero e proprio tifoso della civitanovese Massimo Rossi, buonasera Massimo Ciao, buonasera e naturalmente buonasera a tutti voi ma potreste vederlo di giorno quindi anche buongiorno insomma buon tutto Cristiano buonasera anche a te Buonasera a te Alessandro, buonasera Massimo Questa sera ovviamente dobbiamo parlare della partita che c'è stata domenica appunto maceratese-civitanovese un risultato che ci ha sorpresi ma che immagino a te abbia fatto piacere Massimo Beh sicuramente fa piacere vincere il derby ma se avessimo perso poi tra l'altro sarebbe dispiaciuto ma nel calcio ci sta insomma si può vincere, perdere, pareggiare insomma e quindi il derby io ne ho vissuti molti oggi stavo rileggendo i derby che abbiamo fatto qualche anno fa nell'81 quando la civitanovese più promossa è nel C1 quell'anno c'era Padova, Mestrina, Civitanovese e Maceratese le quattro squadre che puntavano la C1 e la maceratese arrivò dopo la civitanovese ma che campionato era? Quelli erano derby e quest'anno nel derby già di Coppa a Civitanova e poi a Macerata, vabbè questo per errore senza rappresentarsi perché non c'era il pubblico e sono derby, mi hanno entusiasmato soprattutto il comportamento dei tifosi da una parte e dall'altra era un bel vedere domenica qui a Lelvia Recina è stato uno spettacolo vedere i bianco-rossi da una parte i rosso-blu dall'altra lo sfottò che c'era ed è normale ma il comportamento sono stati bravi, bravi io faccio i complimenti a entrambe le tifoserie una bella rappresentanza davvero con oltre 700 tifosi civitanovesi sui 2000-2500 invece quelli della Maceratese dunque un pubblico di altri tempi un pubblico di categorie sicuramente superiori ecco, prima di andare ad analizzare un po' più nel dettaglio la partita direi di rivedere velocemente i gol e poi li commentiamo insieme attenzione attenzione qui a Nicolosi che prova a imbucare per Dercole Dercole arriva sul palone messo giù ed è calcio di rigore calcio di rigore per la Maceratese parte Perri il gol di Perri qui interviene in maniera pulitissima Nicolosi poi però dall'altra parte attenzione al sinistro è il pareggio della Civitanovese il gol di Bagnolo Visciano qui al limite dell'aria la conclusione di Visciano e c'è il gol grandissimo gol di Visciano lo recupera ma poi lo perde il capitano della Maceratese allora spalanca il contropiede ai rosso-blu Paolucci Paolucci davanti al portiere Paolucci e c'è il gol del 3 a 1 della Civitanovese il gol di Ercoli di nuovo qui a Digi Club abbiamo visto dunque i tre gol della Civitanovese che sono arrivati appunto dopo il rigore trasformato da Perri ecco dei tre sicuramente il più bello è quello di Visciano beh sicuramente il più bello è quello di Visciano ma belli per noi per noi rosso-blu sono belli tutti a tre ma quello di Visciano soprattutto perché ci ha portato avanti di un gol e quindi ma e poi è tutt'oggi che parlo con Visciano perché questo gol è lui che l'ha visto l'ha rivisto lo riguarda e lo riguarda veramente tre gol belli sì di pregevole fattura tra l'altro parte il gol Visciano è stato autore davvero di una prestazione autorevole padrone assoluto del centrocampo un centrocampo invece quella della Maceratese è sembrato essere in difficoltà Cristiano sì ieri la Maceratese a parte dopo il vantaggio è stata poco in partita c'è una difficile gestione in avanti di tutto il parco attaccanti che di conseguenza mette in difficoltà la manovra a centrocampo l'attanzi secondo me non è riuscito a trovare finora la sintesi perfetta eh sì infatti proprio l'attanzi è finito al centro di diverse critiche all'indomani del derby invece grandi elogi per mister Alfonsi che oltre ad aver azzeccato in pieno la formazione e i cambi dal suo arrivo alla Civitanovese ha dato davvero una grossa impronta a questa squadra tu sai che il dottore più bravo è quello che ti fa stare bene poi se sbaglia non è bravo è così è l'allenatore perché l'attanzi ha fatto bene a Casette Verdini ha fatto bene a Montefano e adesso è nell'occhio del ciclone però c'è sicuramente qualche problema è così con Alfonsi Alfonsi che ha rilevato Nocera che ha vinto due campionati e Civitanova è un altro tipo di allenatore un altro tipo di persona ha un rapporto con i giocatori completamente diverso non che Nocera non ce l'avesse Nocera era un po' il macio della situazione Alfonsi e poi parlandoci dice io faccio sono dei bravissimi ragazzi quindi prima dell'allenamento l'ultimo allenamento lui abbraccia tutti i giocatori prima che entrano nello spogliatoio Si si vede proprio che ha un rapporto quasi amicizia dice si però dopo in campo i due ruoli loro sono giocatori io sono l'allenatore questo è Alfonsi insomma Ecco dicevamo appunto delle critiche che hanno interessato Lattanzi secondo te la sua panchina è a rischio Cristiano? Allora la panchina beh per come si sono messe queste prime quattro giornate c'erano aspettative molto alte io ecco non dico che la maceratese doveva essere a punteggio pieno però quantomeno qualcosina in più contro Urbino e Urbania sicuramente si poteva fare poi il derby è sempre una partita a sé in Coppa poi c'è un'altra avversaria molto sentita il Tolentino che questa domenica ha vinto e già lì sarà uno spartiacque importante per il percorso di Lattanzi alla maceratese mercoledì si giocherà molto secondo me tu invece Massimo come l'hai vista la maceratese io ho visto la maceratese ma l'ho vista non bene sicuramente ma ho visto bene la Civitanovese perché pensiamo sempre che c'è un avversario e la Civitanovese aveva la garra giusta per giocarsi il derby la maceratese che ho visto in Coppa e la maceratese che ho visto domenica in campionato era una cosa completamente diversa quindi è strano sarà colpa di Lattanzi non lo so perché ripeto il mercoledì giocano bene poi la domenica nel derby forse è l'avversario che domenica ha fatto sì che la maceratese non giocasse bene una Civitanovese davvero organizzata ben disposta in campo io farei una menzione particolare anche per la coppia centrale Ballanti passa l'acqua che di fatto era la seconda partita insieme questa Civitanovese io l'ho vista con l'Urbino dicevano 3 a 1 ma questa Civitanovese nel secondo tempo contro l'Urbino ha meritato ampiamente il pareggio poi cercava ancora la vittoria e per errore perché poi nel calcio si dice se non puoi vincere almeno pareggia la Civitanovese c'era riuscita al 41esimo del secondo tempo beccata in contropiede poi a Osimo ha giocato come ha giocato il Ramacerata il Chiesanuova forse era la squadra che meritava il pareggio con la Civitanovese poi però si sono condannati da soli perdendo tempo l'arbitro non ha fatto altro che dare il recupero e nel recupero il signor ha voluto un autore del calcio è questo insomma fortunato il Chiesanuova che tra l'altro anche domenica ha perso con il Tolentino vivendo gli highlights tu quella partita l'hai commentata anche lì forse meritava di raccogliere qualcosa in più certamente se andiamo a vedere il risultato dispiace un po' per il Chiesanuova perché è una squadra che sta giocando molto bene in questo inizio di stagione e come ho detto la scorsa settimana al presidente Bonvecchi si vede proprio l'impronta di Mobili che sta plasmando questa squadra con dei giocatori di grande qualità il problema però è che ancora manca qualcosa per fare diciamo quel piccolo salto di qualità che permetterebbe alla formazione bianco-rossa di portare a casa i punti infatti guardando un po' la classifica di queste prime quattro giornate di eccellenza sorprende sicuramente vedere l'Urbania in testa a punteggio pieno poi c'è Urbino e Maceratese a nove punti Civitanovese che dicevamo ieri anche con mister Alfonsi potrebbe sognare anche magari no è ancora è ancora presto è presto per tutto è presto per parlare di una Maceratese in crisi è presto per l'Urbania che può andare avanti chissà dove presto per l'Urbino io ho sentito Sartori che a Civitanova ha fatto il mattatore poi lui giocava con il Montecchio l'anno scorso ha vinto il campionato di promozione questo è un campionato estremamente difficile quindi no non credo non credo che la Civitanovese è una neopromossa non dimentichiamoci Blasone c'è ma è una neopromossa e quindi gioca il suo campionato la prima cosa che vuole la Civitanovese è una salvezza sicura poi se viene qualcosa di meglio andiamo ma ricordiamo neopromossa ecco quindi volare basso anche lo stesso Santi Alfonsi ha usato diciamo un'espressione simile dicendo di non fare troppi voli pindarici Civitanovese che domenica invece sarà ospite dell'Atletico Azzurra Colli dunque un'altra partita in trasferta contro un'altra squadra che non sta vivendo un momento di forma all'altezza della squadra che l'anno scorso aveva invece centrato i playoff e da quelle parti c'è un signore che fa l'allenatore che è qualcosa di particolare e l'Azzurra Colli c'è un punto ma ripeto ancora non lasciamoci ingannare sarà una squadra in piena crisi o sarà una squadra che domenica sarà arrabbiata per i risultati che ha avuto fin qui e quindi e poi il calcio ti risponde sempre il campo non può risponderti i punti in classifica dove arrivi dove sei arrivato c'è da lavorare insomma c'è da andare avanti ecco allora io direi di rivedere rapidamente anche i gol di Chiesa Nuova Tolentino poi torniamo qui con ospite il DS della Pignanese Gagliardini appunto per focalizzarci anche sul campionato di promozione Lanza lancia il pallone in avanti alla ricerca di un attaccante la spizzata verso Borrelli intanto calcio di rigore Petrucci la palla è in rete attenzione Crescenzi che trova Bonifazzi bello il barco per Crescenzi e c'è il pareggio del Chiesa Nuova crossa direttamente il pallone in area Santi Rocco addomestica il pallone ancora Santi Rocco se ne va via Santi Rocco la conclusione e c'è il gol del Tolentino che torna in vantaggio con il numero 9 Santi Rocco di nuovo qui a Digi Club eccoci con il direttore sportivo della Pignanese Maurizio Gagliardini buonasera Maurizio buonasera allora questa sera ti vedo di buon umore perché comunque sabato avete ottenuto una vittoria importante io normalmente sono sempre di buon umore che a volte magari seguendo il calcio i risultati a volte determinano il buon esito della giornata comunque sì sabato abbiamo fatto una buona una buona prestazione non una partita bellissima però venivamo a tre sconfitte quindi a volte un attimino si lascia stare il bel gioco cercando di parlare al sodo non è stata ripeto una bella partita credo che però abbiamo meritato la vittoria soprattutto nel secondo tempo che abbiamo fatto abbastanza bene ripeto nonostante il periodo negativo sì tra l'altro Appignanese che arriva nel campionato di promozione da neopromossa dopo il grandissimo cammino dello scorso anno che noi appunto abbiamo commentato anche nella finale di Villa San Filippo ecco avete tenuto un po' quell'ossatura di squadra che vi ha permesso appunto di raggiungere la promozione con qualche innesto mirato sì dovevamo mettere intanto gli under noi non avendo il settore giovanile fino li abbiamo fino ai giovanissimi gli allievi quindi gli under dovevamo inserirli e abbiamo mantenuto l'intelagliatura negli anni passati solo che in questo inizio abbiamo mantenuto anche l'euforia dello scorso anno quindi abbiamo peccato un po' di ingenuità beh direi che significati forse e lo so per come è arrivata quella promozione e lo so per come è arrivata sicuramente è stata una roba da sogno però la realtà poi in questo campionato è ben diversa gli errori si pagano e ce ne siamo resi conto sulla nostra pelle con tre sconfitte a parte Castelfilardo dove abbiamo meritatamente perso ne altre due proprio per errori banali commessi ingenuità che ripeto forse in prima categoria riesci a passare sopra in promozione no e ci siamo accorti quanto è duro sto campionato perché ogni anno sembrano che invece diventa sempre più più dura più importante però sabato ripeto questi tre punti ci hanno dato effettivamente un po' di convinzione in più e i ragazzi ho visto anche stasera hanno ripreso morale e fiducia in se stessi ecco un campionato molto duro lo sa bene anche il nostro Massimo Rossi che lo conosce bene sia da allenatore ma che poi l'anno scorso l'ha commentato praticamente con la cavalcata che poi ha portato alla vittoria della Civitanovese anche una squadra come la Civitanovese comunque si è dovuto sudare quel campionato intanto è giusto fare i complimenti al direttore sportivo dell'Appignano perché anche l'Appignano non è promossa era da anni che stava in prima categoria l'Appignano comunque ha un curriculum abbastanza importante ricordavamo prima chiacchierando di Tiziano Zorzetto quelli erano gli anni di fuoco per l'Appignano il mobile che volava a mille e la squadra a duemila quindi la domanda cioè io dico l'Appignano vabbè adesso poi sono tre partite o quattro quattro partite quattro partite vincere sabato sono tre punti ma se vediamo l'Eppidienze Cascinare che l'anno scorso in ugual modo ha vinto il campionato ha fatto difficoltà campionato di promozione meno qualità ma tanta ma tanta grinta e credo che Matelica abbia qualcosina in più di tutto se non sbaglio ma indubbiamente sì però quest'anno forse è aumentata anche la qualità perché tanti giocatori sono scesi di categoria adesso parlavi di Matelica lo stesso Iori Jacchetta Lapin tutta gente che lo stesso Troica che avete affrontato sabato scorso con Titone lo scorso anno militava in eccellenza o anche in Serie D non so che hanno che stanno cercando di far bene in questa categoria e quindi oltre all'agonismo che normalmente c'è in questo campionato secondo me si è aggiunta la presenza anche di giocatori che effettivamente sono di passaggio e possono determinare le sorti di ogni squadra quindi in Italia ha aumentato tutto il supermercato ha aumentato e aumenta la qualità della promozione aumenta la qualità dell'eccellenza io la chiamo Serie D perché poi alla fine mi ricorda gli anni 70 secondo me la Serie D è inferiore a parte qualche squadra io parlo delle squadre che c'erano negli anni 70 Osimana Iesina Civitanovese Maceratese insomma però ripeto se Matelica io direi che sì giocatori di passaggio no di passaggio in questa categoria secondo me sono giocatori che possono far bene in qualsiasi categoria hanno scelto la promozione per un progetto credo a vincere quindi Matelica sicuramente la squadra credo che abbia le carte in regola per puntare al salto di categoria ho visto che anche Trotica si sta riprendendo bene dopo un inizio un po' un balbettante e poi comunque credo che sia un campionato dove puoi vincere e perdere con tutte perché anche il Materi che la prima partita Marina Palmense ha perso il Trotica ha perso in casa con la Cluentina che poi ha perso cioè Rapagnano ha vinto a 100 punti che è una di quelle più accreditate e poi magari ha perso in casa 3 a 0 mi sembra con un casetto ma secondo me il campionato di promozione incomincia a gennaio ma io credo che come dicevi prima anche tutti i campionati adesso sono un po' falsati perché tutti provano anche a vincere perché c'è ancora un girone di ritorno poi il campionato vero normalmente inizia sempre il girone di ritorno dove poi i punti contano adesso perdi una partita puoi recuperarla no? perché diciamo tutti quindi cercano di fare una partita poi iniziano a pensare poi da gennaio cominci un attimino a fare i calcoli quindi cambia sempre il girone di ritorno è completamente diverso adesso non dico che è falsato però è così insomma tutti giocano per vincere perché c'è la possibilità ancora di recuperare abbiamo nominato diverse squadre non abbiamo nominato l'Avrora Treia di Cristiano Lambertucci che lui commenta è l'Avrora Treia che scatta sulla fascia per parlarne che lo scorso anno fino alla fine ha dato fino a torcere la Civitanovese ci siamo dimenticati dell'Avrora ha ragione con Massimo abbiamo parlato parecchio la scorsa stagione poi ho avuto il piacere di commentare con lui anche la sfida di ritorno però anche se la Civitanovese aveva vinto il campionato la settimana prima è stata comunque una bellissima partita un'Avrora che ecco nell'ultimo turno ha perso 3 a 1 a Potenza Picena e mi ritrovo molto nelle parole di mister Martinelli sentite a fine partita in cui sono stati fatali gli errori fatti nei primi quattro minuti prendendo gol su situazioni in cui si era lavorato in allenamento nel corso della settimana poi hanno pesato anche alcune assenze specialmente quella di Giorno Bischuk in attacco che ha privato il reparto offensivo del suo peso naturale e poi certamente non era neanche facile andare a giocare a Potenza Picena perché l'Avrora da quando è che è in promozione a Potenza Picena ha vinto una volta solo l'anno scorso il resto sono sempre stati o pareggi clamorosi all'ultimo o sconfitte ieri Potenza Picena era anche motivato perché stanno girando un documentario molto importante sui 70 anni del tifo potentino sono state premiate anche tutte le vecchie glorie della società giallorossa quindi giocatori carichi a mille per onorare la maglia e tifosi sugli spaldi che veramente dal primo all'ultimo minuto hanno cantato sempre ma per il tifo Potenza Picena è una piazza tranquillamente di serie D anche di più dell'eccellenza questo ci fa capire dunque come questo campionato sia davvero molto entusiasmante di tifo ce n'era tanto anche ieri all'Elvia Recina torniamo appunto al derby dove era presente anche il direttore che partita ha visto ieri una maceratese che insomma deluso beh diciamo che è stata una partita dove Civitanova credo abbia meritato la vittoria per il gioco espresso forse i ragazzi della maceratese sentivano troppo la partita non lo so diciamo che poi erano anche in vantaggio quindi avevano anche la partita diciamo in discesa e invece la Civitanovese non si è scomposta e hanno continuato a giocare cioè a livello di gioco hanno fatto loro la partita e hanno meritato ampiamente la vittoria ieri la maceratese forse è mancata sul piano del gioco non dell'impegno naturalmente perché di fronte a quel pubblico l'impegno c'è sempre però a livello di gioco forse hanno hanno peccato un po' poi nel secondo tempo alcune azioni individuali però il gioco l'ha tenuto sempre in mano la Civitanovese che ieri mi ha fatto una grossissima impressione una squadra organizzata non lo diciamo perché c'è Massimo qui con noi no no puoi dire ciò che vuoi ieri ho visto una gran bella squadra dove ognuno fa il compito suo ognuno messa bene in campo con Visciano in mezzo che è detta il gioco mi ha fatto una buonissima impressione però ripeto la maceratese ha una rosa talmente importante che ha tutte le carte regola per riprendersi quanto prima quindi ieri ripeto non c'è stata una partita insomma a livello di gioco è vero da direttore sportivo secondo lei questa squadra è stata costruita un po' diciamo con lo bilanciamento noi abbiamo fatto quattro partite e ne ho perso tre quindi diciamo che c'è da pensare al mio seguo la maceratese con affetto con passione lo sapete perché io sono legato a quella società da ricordi straordinari il campionato famoso di Serie D senza perdere mai è una roba che non non può dimenticare però adesso veramente faccio un boccalupo alla società alla squadra al mister di riprendersi subito perché la piazza merita sicuramente qualcosa in più però credo che abbiano ripeto tutte le carte in regola per riprendersi per quanto riguarda la composizione della squadra credo che dopo il mercato non ci fosse un addetto ai lavori che non avesse accreditato la maceratese come tra le pretendenti alla vittoria finale perché la rosa credo che sia composta da giocatori importantissimi in tutti i reparti non è che hanno tutti i reparti hanno dei giocatori di di categoria bene tornando invece al campionato di promozione alla Pignanese io direi un attimo di rivederci invece le immagini di Casette Verdini Porto Sant'Empidio che abbiamo seguito sabato e poi li commentiamo un attimo insieme con uno sguardo al campionato numero 6 che sale e poi non trova nessuno da servire allora Sara che se la porta sul sinistro vuole la conclusione il tiro è la parata di Giorgi ora il pallone alto e poi in avanti adesso Mandolesi un 2 contro 3 Mandolesi se la porta sul destra poi la lascia per Ulivello ancora Ulivello prova il tiro è la parata ora Mallaccare ancora in avanti il pallone per Mandolesi in area di rigore Mandolesi per Ulivello che vuole il tiro viene messo a terra senza fallo sciupa una ghiotta occasione da gol qui Casette Verdini con Finori che è uscito benissimo sul pallone erano le immagini di Porto Santepidio Casette Verdini una partita terminata sullo 0 a 0 Casette Verdini comunque lanciatissimo in questo campionato a Pignanese che invece sabato prossimo dovrà vedersela in casa con la Cluentina un'altra partita insidiosa che però potrebbe dar proseguo a questo momento positivo noi speriamo di dare continuità al risultato di sabato perché se no ogni settimana torneremo sempre a ripartire con mille problemi è ovvio che come dicevo prima tutte le partite sono insidiose la Cluentina ormai da diversi anni in medita in questa categoria sta facendo bene giovani interessanti un gruppo che da tempo stanno insieme l'allenatore assolutamente molto preparato quindi ma ripeto adesso a parte la Cluentina tutte le partite saranno insidiose io credo che dipenda parecchio anche da noi se riusciamo a limitare non gli errori gli errori bene o male li faremo sempre però se limitiamo gli errori banali potremmo giocarcela un po' con tutti e cercare di portare la squadra quanto prima raggiungere una salvezza che per noi sarebbe fondamentale insomma dopo tanti anni avremo piacere di poter continuare in questo campionato e noi ve lo auguriamo davvero col cuore dando uno sguardo alla classifica invece sicuramente fa molto strano vedere una squadra costruita con tanti favori e pronostico ovvero la San Giorgese Monte Rubianese ancora ferma a un punto è arrivata un'altra sconfitta sabato sì ci sono tante cose da rivedere per questa nuova realtà della promozione e secondo me tante volte magari le sì le fusioni vengono fatte ma poi per mettere d'accordo tutti in ambienti un po' particolari di tempo ce ne vuole poi hanno cambiato molti giocatori e molto spesso anche far venire dei giocatori da categorie superiori non sempre questo è un elemento che fa la differenza serve serve tempo e soprattutto servono le idee chiare io spero per loro che queste idee si possano schiarire nelle prossime settimane si era parlato in estate anche di un possibile approdo di Paolucci alla San Giorgese c'era qualcosa di vero Massimo mi viene da ridere ma si parla di Tulli era della Civitanovese Minnozzi era della Civitanovese ma parlare fa bene perché più si parla l'importante è che si parla di me se ne parli bene o male l'importante perché se mi dimenticano poi non mi ricordo più niente non si ricordano l'importante è che si parla di me io volevo intanto dare un consiglio addirittura attenta a Mancini che c'è un sinistro che fa paura io ho allenato ho allenato questo ragazzino tanti anni fa e attenzione perché questo è tremendo c'è il sinistro che e poi tra l'altro è uno che ci crede è uno che ci crede e ci crede tanto e quindi attenzione per quanto riguarda Paolucci la San Giorgese doveva arrivare Minnozze oppure Tulli oppure doveva ma da noi si dice senza Lilliri non se l'allera insomma ci vogliono i soldi mantenere questo tipo di giocatori è dura dopo che facciamo quindi passo dopo passo io stavo dicendo l'altro giorno stiamo costruendo una Civitanovese nuovi sponsor il palazzo sta crescendo è arrivato il direttore generale bisogna metterci i mobili dentro ecco a proposito non i mobili i mobili tra l'altro no mobili mobili è un'altra cosa è l'allenatore del Chiesa Nuova c'entrava antiterramento quando giocava era fortissimo non ricordo era e ti ripeto si mette dentro i mobili piano 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 e si deve costruire la casa quindi allora teniamo i piedi per terra e viaggiamo piano piano la Civitanovese ripeto forse qualcuno è una neo promossa non lasciamoci ingannare dal nome Civitanovese ha giocato in prima categoria quattro anni fa insomma non è che certo però il derby vinto ma lascia stare il derby io sono felice perché ha vinto il derby tra l'altro mi piaceva dire che sono tornato sul luogo del delitto perché sono tutti i maceratesi io da Civitanovesi l'ultimo l'abbiamo vinto 3 a 2 comunque ma hanno visti i derby dopo 25 partite allora e quell'anno abbiamo vinto anche Civitanova si lo so lo so Domenico Salvi signor no no io parlo nel 2014 quando abbiamo vinto io avevo smesso avevo smesso con il cavo avevo abdicato poi mi hanno era un periodo di riflessione io sono arrivato a dire noi erano 25 partite la Civitanova che non perdeva con Di Giacomo allenatore abbiamo perso a Macerata con Morbiducci gol io ho detto meglio perdere 25 partite che vincere a Macerata però erano gli anni d'oro anche per me ero più giovane più adesso adesso derby quale derby ma quale derby ma i derby di Rega Prenna sta gente qua Morbiducci Pagliari Faustinella ma che questi erano i derby quelli tosti insomma ma adesso derby forse i civitanovesi ecco lo sentono di più perché la squadra è composta da molti civitanovesi ecco però facciamo chiarezza noi non siamo Maceratesi noi tifiamo l'Elvia Recina che sabato ha ricominciato a giocare qui a Villa Potenza in un pirotecnico 3 a 3 ce lo rigustiamo un attimo al volo c'era anche una vecchia conoscenza attenti nella panchina del CSR Canati l'Elvia Recina è la madre della Maceratese se non ci fosse stata l'Elvia Recina non ci sarebbe più stata la Maceratese e qui siamo sempre dentro ci siamo questo è anche vero la Maceratese in terza categoria la allenava Michele Morra Maceratese faceva la terza categoria insomma era scesa ma non perché si chiama Maceratese perché ci vogliono i soldi per fare i campionati e quando voglia dire i tifosi vogliamo la squadra vogliamo vincere e dentro il portafoglio se non ci sono i soldi che fai? vogliamo vincere tu vuoi vincere però l'abbonamento non lo fai però lo stadio non ci vieni e vuoi vincere perché ti chiami Civitanoveso o Maceratese ma e io il nome non ti fa vincere i campionati bisogna programmare le programmazioni poi il direttore sportivo lo sa meglio di mezzo le programmazioni sono importanti non si fa nulla e non si fa nulla così tanto per tanto per no abbiamo scatenato il tavolo di IG Club questa sera ringraziamo ovviamente Massimo per essere stato qui con noi all'indomani del derby vinto ci vorrei tornare anche tu metti sempre il dito in lezzo il derby vinto il derby vinto abbiamo vinto una partita stop no però se magari il derby ritorno la Civitanovese lo perderà tornerà comunque a trovarci tu mi vuoi far arrivare al derby di ritorno e io mi invecchio ancora di più no lascia perdere domenica abbiamo l'azzurra a golli poi vedremo il derby di ritorno ma quanti derby dobbiamo giocare Jesina Osimana Tolentino tutti i derby ovviamente ringraziamo anche il direttore sportivo Maurizio Gagliardini per essere stato qui con noi vi facciamo un in bocca al lupo per la partita di sabato così per tutto il campionato ricordandovi che noi seguiremo appunto tutte le partite casalinghe dell'Appignanese grazie Cristiano l'aurora dove va invece sabato sabato in casa esatto grazie a te Alessandro sabato c'è in casa il Porto Sant'Elpidio e secondo me è una partita di grande difficoltà perché il Porto Sant'Elpidio è una squadra molto organizzata una vittoria e tre pareggi in queste prime tre partite poi la prima giornata li abbiamo visti anche in azione ad Appignano una squadra che non ha sfigurato in questo inizio di stagione e si vede la mano di palladini secondo me hanno fatto benissimo a confermarlo nonostante la retrocessione perché l'anno scorso con pochissimo che aveva a disposizione ha lavorato molto bene allora vi salutiamo con il 3 a 3 pirotecnico fra Elvia Recino e CSI Recanati poi il gol della domenica indovina un po' chi abbiamo scelto Viscano dai sicuramente Viscano perché è un gran bel gol oggettivamente al di là del tifo dei colori è stato un gol che è arrivato io ripeto e ribadisco ancora poi chiudo il concetto il gol più bello l'hanno fatto i tifosi comportandosi in una maniera eccezionale in entrambi le tifuserie sono stati bravissimi così come erano stati a Civitanova lo sono stati a Macerata è questo il calcio questo è il calcio è un gioco e bisogna giocare e basta lasciar perdere insomma ste cattiverie ste guerre poi si torna a casa e si piange perché magari qualcuno ci ha messo le manette ci ha portato via vabbè allora io direi in bocca al lupo alla maceratese da Civitanovese ma non è ironia è chiaro che alla mia squadra auguro il meglio possibile no? perché è normale perché la vivo costantemente giorno dopo giorno e tutti i giorni sono allo stadio i sei gol dell'Alverecina e poi il gol della domenica di Viscano buonanotte a tutti chi ha parte Bugio Lacchi esecuzione perfetta Gattari scatta sul filo del fuorigioco e arriva il pareggio dell'Alvia Recina al trentasettesimo Tonuzzi cerca il fondo passa Tonuzzi ed è un grandissimo gol conclusione la palla per Maluccio per il pareggio dell'Alvia Recina si attende si attende solo il fischio del signor Bardi che arriva ora la palla si abbassa e finisce in gol e questo è un grandissimo gol da parte di Dan Cipschi cross basso di Tonuzzi palla che in qualche modo passa una mischia in aria e il pallone che finisce in rete il 3 a 3 degli ospiti ma che Visciano qui al limite dell'aria la conclusione di Visciano e c'è il gol grandissimo gol di Visciano che ha lasciato partire un siluro che si è infilato sotto all'incrocio dei pali era andata vicinissima al gol del 2 a 1 la Civitanovese pochi istanti fa l'ha trovato invece qui con la prodezza di Visciano esplode il settore ospiti rosso-blu